Limitato nelle sue prospettive di sviluppo dalla precedente giunta, a causa della contrarietà degli ambientalisti, l'aeroporto di Fano torna ad avere notevoli opportunità dall'attuale. Non solo il sindaco Lucas R. Filippi sta lavorando per realizzare la pista in cemento, che potrà attribuire più sicurezza a piloti, ma anche aumentare il traffico aereo privato al servizio dell'economia provinciale, ma ha deciso di utilizzare il grande spazio verde a sud della città per organizzare grandi eventi. L'occasione gliela sta fornendo Robert Lewis, un imprenditore di origine americana che ha proposto la realizzazione dell'Adriatic Sound Festival, un grande raduno al quale si ipotizza possano partecipare dalle 20.000 alle 40.000 persone in programma per il prossimo anno. L'investimento è particolarmente ingente, si parla di 5-6 milioni di euro. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Lucas R. Filippi, dall'assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli e dallo stesso Lewis. Oggi abbiamo gettato le basi per un evento mondiale direi, perché Adriatic Sound Festival è il grande evento che partirà da giugno del prossimo anno all'aeroporto di Fano. Abbiamo una grandissima struttura da valorizzare e io ci tengo a ringraziare Robert Lewis, l'assessore Santorelli, il vicesindaco Manocchi per quello che hanno messo in piedi e che stiamo mettendo in piedi insieme a Robert Lewis, che ci tengo a ringraziare in particolar modo perché questo potrà essere un grandissimo evento di promozione e anche di accoglienza della nostra città e della nostra regione Marche. E come l'avete collocato e quale sarà il grande impegno logistico? Sì, ci sarà un grande impegno, ma è questo che abbiamo detto nei mesi scorsi, anche durante la nostra campagna elettorale, che abbiamo fatto un cambio di passo significativo sui grandi eventi, quindi non solo sugli eventi che siamo abituati a conoscere, ma anche apportando delle novità all'interno delle stagioni e del calendario, soprattutto estivo. Abbiamo collocato questo evento all'inizio della stagione perché è sicuramente un banco di prova per la stagione stessa, ma anche un motivo di promozione per tutta l'estate. Crediamo che la data indicata sia opportuna, che è la fine delle scuole, è la data che apre la stagione estiva e che ci dà la possibilità di accogliere ancora tantissime persone perché le strutture magari non sono piene. Il tema delle strutture lo guarderemo poi successivamente, anche con le categorie economiche, quindi con gli albergatori e cercheremo di dare mostra di quanto meglio possiamo fare per accogliere un investimento come quello importante di Robert, che veramente ha deciso di investire nella nostra città e di crearne anche una prospettiva per il futuro. L'obiettivo però è di non concentrarsi solo in quelle due date perché è intenzione proprio anche insieme a Robert di creare dei pacchetti turistici di modo che riusciamo a far stare nella nostra città per più giorni gli ospiti e gli eventori di questo evento e presentare quella che non è solo la nostra città ma anche il nostro territorio. Quindi l'idea è di costruire intorno a questo evento una settimana di accoglienza. Come l'avete concepito e come l'avete organizzato? Io ho conosciuto questo mondo diversi anni fa in Svizzera a Polaris Festival e mi sono innamorato di quella musica. Mio figlio che è veramente il motore di questa opportunità e che ha 23 anni segue questi festival in tutto il mondo è cresciuto qui a Pesaro e insieme per anni abbiamo pensato di lanciare un festival simile e girando in Ibiza, in America, Sud America, Svizzera, Europa abbiamo pensato di fare anche uno in Italia. Conoscendo il mondo in Romagna ci siamo chiesti perché no anche nelle Marche e allora abbiamo pensato di portare l'opportunità anche qui. Ma nelle Marche, ma a Fano, proprio perché a Fano? Perché a Fano piace, è bella, ha molte attrattive? Come ho detto prima non è solo il posto che conta ma anche la gente con cui bisogna collaborare. Per altri motivi ho avuto l'occasione di conoscere il sindaco, l'assessore, il vice sindaco. Ci siamo trovati benissimo insieme, ripeto per un'altra occasione, abbiamo parlato di questa possibilità. loro hanno raccolto subito la possibilità di fare qua. Le strutture, le competenze e la collaborazione sono quelle che contano.